osservare fuochi d'artificio è veramente uno spettacolo emozionante ogni volta e anche fotografarli è un'esperienza che non è assolutamente da meno e proprio di questo ti parlerò in questo video dove ti spiegherò come fare per fotografare i fuochi d'artificio se è la prima volta che passi in questo canale ciao io mi chiamo francesco fanti sono un fotografo paesaggista insegnante di fotografia e in questo canale parlerò di fotografia tutto tondo in tutte le sue sfaccettature quindi se ti interessano argomenti del genere puoi considerare l'idea di iscriverti al canale per rimanere sempre sintonizzato sulle prossime uscite e ora non perdiamo altro tempo iniziamo con l'argomento di oggi i fuochi d'artificio vengono solitamente scoppiati di notte oppure al crepuscolo in ogni caso dopo il tramonto del sole questo perché la bassa luce ambientale ci permette di godere meglio delle esplosioni colorate che sono appunto i nostri fuochi d'artificio questo ci può subito far immaginare che si tratti di una fotografia notturna con poca luce ma in realtà non è così le esplosioni dei fuochi d'artificio sono veramente molto luminose quindi in questo genere di fotografia non avremo poca luce non avremo bisogno di catturare tanta luce come nelle fotografie ad esempio alle stelle alla via lattea teniamo ben a mente questo punto perché sarà importante per tutto la gestione della macchina fotografica durante gli scatti a proposito di via lattea e stelle ci tengo a ricordarti che il prossimo 16 settembre terrò l'ultimo workshop estivo su come fotografare la via lattea e gli star trade quindi se ti interessa saperne di più scrivimi oppure dai un'occhiata link in descrizione o sul mio sito web per fotografare i fuochi d'artificio abbiamo bisogno veramente di pochi strumenti ci basta una macchina fotografica di qualunque tipo l'importante è che abbia la possibilità di gestire i parametri in modalità manuale per avere più flessibilità è anche consigliabile avere una macchina fotografica con ottiche intercambiabili anche questo perché ci permette di avere molto più controllo e flessibilità è possibile fare fotografie fuochi d'artificio anche con gli smartphone ormai sempre più modelli hanno più lenti al loro interno e anche la possibilità di gestire i parametri di scatto ovviamente quale che sia la macchina fotografica che vorrai utilizzare deve essere pronta all'uso quindi con batterie cariche eventualmente batterie di scorta e memorie capite se hai la possibilità di scegliere la tua lente ecco che conviene utilizzare una lente abbastanza grandangolare e se hai la possibilità anche zoom non serve assolutamente avere una lente molto luminosa una lente veloce perché come abbiamo detto poco fa non è un genere di fotografie in cui serve catturare tanta luce anzi ne avremo quasi troppo quindi potremo permetterci di chiudere i diaframmi a valori maggiori e di conseguenza non avremo bisogno di avere quelle lenti costose e pesanti con diaframmi massimi aperti tipo f2.8 o f2 una qualunque lente da quel punto di vista va bene per quanto riguarda la scelta di una lente grandangolare è l'ideale perché i fuochi d'artificio esplodono in tutte le direzioni per molti metri e soprattutto molto alto nel cielo quindi avremo bisogno di catturare un angolo di campo veramente ampio verticale orizzontale che sia e per questo le lenti grandangolari sono veramente l'ideale è logico che dipenderà dalla posizione in cui ti metti rispetto ai fuochi se li fotografi da tanto tanto lontano ti occorrerà necessariamente una lente più zoomata un teleobiettivo la comodità di avere una lente zoom per questo genere di fotografia è nel fatto che hai possibilità di gestire la tua inquadratura in maniera molto più precisa non sai esattamente a che altezza i fuochi esploderanno o quanto orizzontalmente si espanderanno quindi avere la possibilità di avere una lente zoom e quindi gestire la tua inquadratura in questa maniera è veramente molto molto comodo in ogni caso la scelta della lente dipenderà molto dal luogo in cui vengono scoppiati i fuochi e dove ti posizionerai tu ad esempio nel caso in cui i fuochi vengano scoppiati nell'acqua non avrai mai la possibilità di andare particolarmente vicino quindi in quei casi avere un obiettivo un pochino più zoomato sicuramente sarà di beneficio per quanto si possono scattare le fotografie i fuochi d'artificio anche a mano libera personalmente non lo consiglio e quindi l'ideale è avere un buon treppiede qualunque treppiede assolverà perfettamente alla funzione infine l'ultimo strumento veramente necessario per fotografare i fuochi d'artificio è un pulsante di scatto remoto esistono da pochi euro come questo su amazon con il cavo oppure arsino addirittura un ricevitore si possono utilizzare wireless alcune marchi di macchine fotografiche permettono anche l'utilizzo del proprio smartphone come pulsante di scatto remoto ma personalmente non lo consiglio più di tanto sono solitamente applicazioni lente non affidabili e lacunose che il più delle volte non funzionano nel momento del bisogno personalmente non l'utilizzo quasi mai ma magari tu sei più fortunato di me la tua funziona perfettamente quindi sentiti pure libero di usarlo altrimenti uno qualunque di questi signori assolve perfettamente al suo scopo una cosa importante in questo genere di fotografie e fuochi d'artificio non è indicato l'utilizzo dell'autoscatto come invece si utilizza tantissimo ad esempio per fotografare le stelle o la via latte se ti interessa fotografare la via latte dai un'occhiata al video qua sopra quindi l'utilizzo della funzionalità di autoscatto non va assolutamente bene perché dobbiamo poter scegliere noi quando scattare e scattare immediatamente perché se dovessimo aspettare il timer di due tre secondi dell'autoscatto perderemo quasi sicuramente il fuoco nel nostro cielo come ogni qualvolta si va fuori a fotografare di notte avrai bisogno anche di vedere e quindi l'ideale è avere con sé delle luci, delle torce e l'ideale davvero è avere le mani sempre libere quindi l'utilizzo di una torcia frontale è veramente consigliato meglio ancora se ha luce rossa la luce rossa ti permette di non rimanere abbagliato e anche di attirarmi agli insetti quindi ti sarà sicuramente molto utile anche nel caso andare fuori a fotografare ad esempio le stelle quindi questi sono tutti gli strumenti veramente necessari per fotografare i fuochi d'artificio una macchina fotografica una lente grandangolare meglio ancora se zoom non particolarmente luminosa un trepiede e un pulsante di scattola emotiva mi raccomando una torcia per vederti e non ti serve veramente nient'altro ora che abbiamo visto l'attrezzatura andiamo a cercare di capire come possiamo operare per andare a fotografare i fuochi d'artificio innanzitutto è veramente cruciale arrivare per tempo nel luogo dello scatto meglio ancora se quando c'è ancora luce questo ti permetterà di guardarti intorno capire esattamente dal punto esatto in cui partiranno i fuochi quindi riuscire a trovare un luogo una composizione che permetta di vederli molto bene l'ideale è anche posizionarsi non troppo vicino ai fuochi ma un pochino più lontano questo perché ci permette di averli più facilmente tutti all'interno della nostra inquadratura questo dipenderà ovviamente dalla scelta della lente che avrai effettuato se possiedi una lente molto grandangolare ad esempio un 14 mm ti potrai permettere di andare anche molto molto vicino ai fuochi perché riuscirai comunque a includerli tutti se invece hai una lente un pochino meno grandangolare ecco che avrai necessità di allontanarti un pochino quindi riuscire a fare un minimo di sopralluogo nei momenti di luce è veramente molto importante tieni inoltre conto che la maggior parte delle volte i fuochi d'artificio vengono fatti a qualche sagra, a qualche festa quindi puoi anche andare lì prima, goderti la festa, mangiare qualcosa intanto aspettare che faccia buio un altro vantaggio dell'arrivare prima a fare il sopralluogo è che potrai riuscire a posizionarti prendere anche un ottimo posto per fotografare i fuochi e anche scattare una fotografia del contesto quando c'è ancora tanta luce senza ovviamente i fuochi nel cielo questo perché molto spesso le fotografie dei fuochi d'artificio sono fotografie composite e su questo ne parleremo dopo come per tutte le volte che fotografico sul treppiede è assolutamente importante disattivare la stabilizzazione sulle tue lenti o sulla tua macchina fotografica altrimenti andrai a introdurre tu del micromosso che non vuoi assolutamente avere nelle tue foto e infine un'altra funzionalità che devi assolutamente disattivare per quanto riguarda la fotografia dei fuochi d'artificio è la riduzione del rumore per le lunghe esposizioni per quale ragione? perché la tecnica di scatto per fotografare i fuochi d'artificio quando usi un treppiede è quella delle lunghe esposizioni e quindi utilizzeremo dei tempi di scatto abbastanza lunghi svariati secondi e non possiamo permetterci che la macchina fotografica vada a ridurre il rumore in queste fotografie rimanendo completamente inagibile in blackout per un numero di secondi pari al nostro tempo di scatto ad esempio se scattassimo per 4 secondi la macchina fotografica per 4 secondi successivi rimarrebbe inagibile e perderemo un sacco di fuochi di conseguenza dobbiamo assolutamente disattivare questa azione per quanto riguarda l'inquadratura i fuochi d'artificio si prestano moltissimo anche a inquadrature verticali questo perché tu vorrai prendere sì il terreno il primo piano con il tuo soggetto per dargli un contesto e renderli più belli ma i fuochi d'artificio vengono esplosi molto in alto quindi si svilupperà molto verticale questo tipo di fotografia e quindi un'inquadratura verticale potrà essere l'ideale spenderà molto anche dal tipo di spettacolo perché se sarà uno spettacolo pirotecnico grandioso con tantissimi fuochi nel cielo ecco che potrà espandersi molto anche orizzontalmente quindi è un po' da valutare di volta in volta anche in base al tipo di spettacolo che andrai a fotografare personalmente io cerco di scattare quasi sempre in modalità orizzontale perché la preferisco poi eventualmente vado a ritagliare un pochino l'immagine però se so che sarà uno spettacolo abbastanza modesto sviluppato quasi solo verticalmente allora magari scelgo la inquadratura verticale come anticipato un secondo fa la tecnica di scatto per i fuochi d'artificio è proprio quella della lunga esposizione terremo dei tempi di scatto lunghi anche svariati secondi ma il motivo non è quello standard della lunga esposizione ovvero non lo faremo per riuscire a catturare più luce come ad esempio lo facciamo per le stelle radialatte lo scopo di utilizzare tempi di scatto di svariati secondi è quello di riuscire a catturare il disegno dell'esplosione di un fuoco d'artificio nella sua interezza se scattassimo fotografie molto veloci come dovremmo necessariamente fare nel caso non usassimo il treppiede ma scattassimo a mano libera ecco che correremo il rischio di avere un fuoco d'artificio non completamente esploso oppure ancora non esploso o esploso solo a metà questo perché i fuochi d'artificio esplodono molto rapidamente ovviamente ma generano il loro disegno complessivo in un po' di tempo quindi se noi riusciamo a scattare per due, tre, quattro secondi saremo sicuri di avere in quel fotogramma il disegno del fuoco d'artificio completo nella sua interezza per contro questa lunga esposizione ci genera un problema dato che i fuochi d'artificio sono molto molto luminosi in questi tre, quattro, cinque secondi di tempo correremo il rischio di avere troppa luce catturato troppa luce avere quindi i nostri fuochi d'artificio bruciati in cui perderemo il dettaglio del colore parliamo quindi dei parametri di scatto che utilizzo più frequentemente dal momento con un tipo di fotografia in cui avremo tanta luce e fin troppa posso permettermi di tenere i valori di ISO molto molto bassi addirittura al valore minimo per la mia macchina fotografica quando scatto quella mia fuji mi imposterò ad esempio a 200 e se proprio mi trovo in necessità di doverli alzare li alzo al massimo di uno stop ma non è un genere di fotografico in cui abbiamo bisogno di incrementare la luminosità delle nostre immagini per quanto riguarda la scelta del diaframma devo tenere in mente due cose la prima ho bisogno di avere una profondità di campo piuttosto ampia perché i fuochi d'artificio esplodono in tutte le direzioni quindi possono avere necessità di avere una profondità di campo molto ampia per averli bene a fuoco tieni conto che se utilizzi una lente grandangolare non avrai grossi problemi di profondità di campo però nel caso tu vada a utilizzare un intero obiettivo ecco che devi assolutamente fare attenzione il secondo motivo che devo tenere a mente quando penso al diaframma è anche la quantità di luce in ingresso nella macchina fotografica io scatterò per tanti secondi quindi farò entrare tanta luce nella mia macchina fotografica che potrebbe essere troppa di conseguenza chiudere un pochino di più il diaframma oltre ad aiutarmi per la profondità di campo mi permette anche di ridurre la quantità di luce in ingresso e quindi evitare di bruciare le mie fotografie avere troppa luce in questi scatti ci porta ad avere i fuochi d'artificio completamente bianchi in cui si perde il loro colore che è veramente un peccato quindi fai attenzione da questo punto di vista per quanto riguarda la scelta dei tempi di scatto ho sempre parlato di svariati secondi ho sempre detto 2, 3, 4, 5 non ho mai dato un valore esatto per quale ragione? dipenderà da tantissime cose quanto sei vicino ai fuochi quindi quanti fuochi riempiono il tuo fotogramma quanti elementi luminosi ci sono dalla tipologia dei fuochi ce ne sono alcuni più luminosi altri meno luminosi dal fatto che ci sia già della luce ambientale oppure no, che tu stia scattando in campagna oppure in una città con tutte le luci quindi dipende da tantissimi fattori quello che è certo è che vorrei scattare per un po' di tempo per riuscire a catturare l'interezza del disegno del fuoco d'artificio e che non vorrei scattare per troppo tempo per avere i colori bruciati e quindi perdere completamente il dettaglio nei nostri fuochi d'artificio un mio consiglio spassionato è quello di iniziare a scattare in un intorno di 3-4 secondi e poi verifica immediatamente la fotografia sul tuo LCD se è troppo chiara se non assolutamente bruciati riduci il tempo di scatto se invece che vedi che va bene puoi permettere o di allungarla un po' o di tenere quel tempo un'alternativa potresti mettere la tua macchina fotografica in modalità B-BALB scritto BULB è la modalità in cui tu tieni premuto il pulsante di scatto che sia sulla macchina fotografica stessa o che sia quello per scatto remoto e la macchina fotografica scatterà per tutto il tempo che tu terrai premuto il pulsante quindi sarai tu semplicemente a contare in testa 1, 2, 3, 4, 5 secondi e quando rilascerai il pulsante la macchina terminerà di scattare questo è molto comodo nella fase iniziale in cui devi capire esattamente qual è il tempo adatto per i fuochi che stai fotografando perché non sei vincolato a 3-4 secondi impostati sulla macchina fotografica ma lo scegli tu 1, 2, 3, 4 secondi smetti, controlli la foto vedi che è troppo ridurrai 1, 2, 3 e via andare potrai far tutte le prove poi se scopri che quasi tutti i fuochi necessitano di un tempo di scatto ben preciso lo potrai impostare direttamente sulla macchina fotografica e non dover più cliccare sempre a te però questo è assolutamente libero io personalmente utilizzo quasi sempre la modalità B all'inizio poi a volte passo a un tempo impostato sulla macchina fotografica ma non sempre a volte mi diverto a scattare tutto il tempo quindi per fotografare i fuochi d'artificio avremo bisogno di un diaframma chiuso per avere una buona profondità di campo un valore di ISO molto bassi perché non abbiamo bisogno di aumentarne la luminosità e dei tempi di scatto abbastanza lunghi tempo di scatto e il diaframma li gestiremo assieme per gestire l'esposizione della nostra fotografia vorrò avere buona profondità di campo e non avere troppa luce all'interno della mia macchina fotografica ma al contempo riuscire a scattare abbastanza lungo per avere disegni completi per quanto riguarda la messa a fuoco non dovrebbe essere un grossissimo problema perché se arrivi sul luogo di scatto per tempo quando c'è ancora luce puoi già piazzare il tuo treppiede piazzare la tua macchina fotografica e mettere a fuoco quando ancora si vede molto bene in alternativa quasi sempre nei luoghi in cui vengono scattati i fuochi d'artificio c'è qualche luce artificiale anche solo quella dei fuochisti che devono vedere cosa stanno facendo quindi possiamo utilizzare quelle luci per mettere a fuoco nel migliore dei modi in ogni caso se utilizzi una lente molto grandangolare basta veramente mettere a fuoco una qualunque luce già a qualche metro di distanza una decina di metri di distanza questo ci permetterà di avere una profondità di campo veramente molto ampia che includerà anche i nostri fuochi dovremmo stare molto più attenti sulla messa a fuoco e sulla profondità di campo se volessimo utilizzare una lente molto più zoomata un teleobiettivo scattare le foto fuochi d'artificio questo è veramente tutto ma voglio parlare di un'ultima cosa che è proprio quello che riguarda l'editing la post-produzione successiva delle fotografie la maggior parte delle foto fuochi d'artificio spettacolari che vedi in giro sui social online nelle riviste molto spesso è una fotografia composita significa che sono più fuochi d'artificio che sono stati scattati sequenzialmente che vengono uniti insieme in un'unica foto per renderla molto più spettacolare non è assolutamente obbligatorio fare una fotografia composita puoi anche fotografare i singoli fuochi d'artificio ognuno per i fatti suoi però molto spesso la maggior parte degli spettacoli pirotecnici non sono così grandiosi come vorremmo poi immortalare nelle nostre foto è per questa ragione che si va a creare una fotografia composita per farlo dovrai sapere utilizzare un qualche software di fotoritocco come può essere per esempio photoshop gimp oppure affinity photo e richiederà un pochino di lavoro in post produzione inoltre se deciderai di fare una fotografia composita ecco che viene utile la fotografia scattata al contesto dei fuochi d'artificio scattata quando ancora c'era un pochino di luce questo ti permetterà di mettere assieme i fuochi d'artificio con la fotografia in cui avrai molto più dettaglio del primo piano del tuo soggetto in un'unica fotografia di maggiore qualità in ogni caso il primo piano scattato in un momento di molta luce dovrà essere opportunamente gestito e reso coerente con un contesto notturno mi raccomando altrimenti viene un qualcosa che non sta assolutamente bene e aree fotografie composite dei fuochi d'artificio non è assolutamente obbligatorio quindi lo farai solo se sei in grado e se vuoi provare altrimenti puoi tranquillamente scattare le fotografie i singoli fuochi inoltre tieni conto che il gran finale di un qualunque spettacolo pirotecnico di solito ha già tanti fuochi all'interno del cielo quindi se riesci a catturare quel momento sarà già una foto veramente spettacolare tutto questo inoltre dipende da spettacolo a spettacolo se stai fotografando uno spettacolo di fuochi d'artificio o di campagna con un budget molto ridotto non ti potrai aspettare un'infinità di fuochi nel cielo anche al gran finale se fotografi uno spettacolo grandioso in una grandissima città in un momento particolare dell'anno come ad esempio il capodanno ecco che in quei casi il cielo veramente si colorerà di fuochi d'artificio non avrai bisogno di fare fotografie con pose con questo è veramente tutto per quanto riguarda la fotografia di fuochi d'artificio ora non ti resta che cercare una sagra un evento vicino a te in cui ci sarà uno spettacolo pirotecnico e andare fuori a fare qualche prova come al solito se vorrai condividere con me sui social oppure per email una tua fotografia scattata ai fuochi d'artificio per farmi vedere il risultato la guarderò più che volentieri nel frattempo se ti è piaciuto il video e l'hai trovato utile lasciami un like e condividilo con altre persone che vorrà fotografare fuochi d'artificio mi raccomando ricordati anche di iscriverti al canale così rimarrai sempre avvisato per tutte le prossime uscite nel frattempo non mi resta che augurarti buone fotografie e fuochi e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao